Vedi ragazzi ce l'abbiamo fatto a tutti, non male eh Dove siamo arrivati Oh la refill, oh quanto ti prendo tutto Ho delle bruttissime vibes Sono tutto un borghesino Ma vi state prendendo tutto Ma no, ma va, ma ci pare Che cazzo è successo Ragazzi è un coso Easy è decifrabile 3, 7, 5, 2 Bravo no ma sai contare adesso 104 da la possibilità Qui qui guardate ragazzi è un coso Easy ve la faccio, come si fa a interagire Regà? Ma vabbè ma una cazzata Ma secondo me serve un foglio per scriverci Eh no è 3, 7, 3, 7, 5, 2 Ma serve un foglio per scriverci mi sa Mi sa che hai sbagliato, mi berrò un po' di succo No no, non volevo, non volevo Andiamo, andiamo, andiamo Bravo, bravo ragazzi è 3, 7, 5, hai visto? Vabbè ma era 3, 7, 5, c'era sul foglio Eh hai visto incredibile Ma raga l'uscita No abbiamo vinto Abbiamo già vinto Ragazzi io vi avevo detto che non volevo andare a puttare stasera Ragazzi io ve l'ho detto che l'hotel al gamesweek a Qt8 Non dovevamo prenderlo Ma raga ma Meg Ragazzi se serve cheso Mag require capaci di 350 libere Quanto pesiamo? Ma da dove è uscito stasera? Ma venite tutti? Sì tutti 4 Eh ma non è capace di questo su nulla C'è un foglio raga Ragazzi no vado solo Ragazzi Ragazzi come ci hai finito di là? A corso A corso Pezzo di merda Eh raga eh non posso più andare di là Dovamo correre subito qui Ma va e allora perchè cazzo? Aspetta Ritorno 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 lì c'è il ritorno Si può ritornare C'è c'è Raga Sono tornato, sono tornato, sono tornato Che è successo? Ah ma ci può stesse due Ma tu cosa hai aperto? Ma che cosa hai aperto? Ma che cosa hai aperto? Il bel fagor ci vuole fare Vabbio salvati tutti Dove manda io? Si Cos'è più forte qua dentro Ma perchè ce devo andare io? Ma che sei più forte, vai Vai andati la nostra porta e arriviamo anche noi Dai E' come la prova la vostra porta? Io che ne so Trovo un modo Chiudigliela così non può più tornare No pezza di merda fabio in fonda stanza vedo che cazzo siamo finiti no non ci lascerò godo godo vedete da abbandonarmi i pezzi di merda si è ben fatta allora andiamo ragazzi dai cazzo come fai ad averla ma scusa ma ci hai salvati eh si siamo arrivati nella zona finale però ci ha buggato all'inizio no vai si può andare safe safe è un pavimento di petrolio vai muoviti veloce sta arrivando ah è aperto vai vai apri chiudilo madonna no vai via no mi ha buggato aiuto marco ma che cosa è successo ragazzi che l'ha detto tutti quanti o no non so non so chi dai qualcuno che è bravo con le seghe chi è la motosega deve andare avanti però come sta cazzo di motosega andiamo pezzo di merda dai che prima scendiamo prima arriva ma che sta musica no rega rega apri me l'ho fatto sai che serve per rompere porco tu correre correre no 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 via 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 porco 2, porco 2, porco 2 andiamo dietro a destra andiamo dietro a destra ok oh miseria che continuo porco dio ok qui si 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 sempre destra destra, puoi destra Così Mi sono ucciso non vedo niente non vedo niente non c'è la torza Ragazzi sono C'è chiuso ragazzi io sono black screen non vedo un cazzo Guardi che non c'è la forza Lo sento è velocissimo Ci sto seguendo sbagliato No Giusto 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 se qui Ragazzi ce l'abbiamo nel culo Ma qui dove sono nato io prima Guarda a destra di nuovo Si è giusto Scala 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 Ok Ce l'hai fatta ce l'hai fatta Si orco 2 dobbiamo andare al piano ma tu sei idiota ma figlio di puttana vero ci ha messo il lampione dello stadio dentro sto cazzo ascensore orca troia veramente tv e voglio andare alla tv perché non penso non penso di voler più andare alla tv ragazzi questo l'hanno trovato tavolo riservato legnoso proprio ragazzi che con voi non siete con me che come dentro la camera da letto non aprite ma no che non lo sento più raga è mutato e noi che cazzo ma chi è quello più di chiudi avvicinato alla finezza è stato mangiato da un goblino ma veramente madonna l'ho sentito pure quella è un televisore brodero regale una torcia non c'è la e la torcia pezzo di merda era nella cair una stanza non è un cazzo c'era veramente in una stanza lo troppo distante cose che pensa guarda se avete un mostro finestre che delle tende scompare se non vinciamo dentro di chiuderle di richiuderle non c'è mai tra mostro vai via infatti gioco io quanto il corridoio è sparito perché io sono in corno tranquillo è che oggi era un brutto giorno per me e non c'è anche madonna ma c'è il coso fabio sul mio cadavere c'è il mondo perché c'è il giuis ragazzi è fatto di lamiera stu tizio no è tipo un ragno o tabussato al vetro gli rispondi gioco da chi non si guarda junkie lungo tanto se chiede non viene si avrebbe insomma cosa ci è girato è girato e non può entrare troppo larga giusti no chi bussa non si chiudeva ragazzi porco dio voglio vedere se entri ma è troppo veloce a che coglione non può entrare non può entrare non può entrare non può entrare culione culione oh te ne vai coglione 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 titto titto c'è dato eh te lo faccio uno scatto ferino in quelle quello che cazzo è lo sgabuzzino delle torture brodero fammi una cosa sacrifichiamoci almeno ci aiutano a cercare il coso prego e come ci sacrifichiamo ci vogliamo mangiare dall'era cross era cross l'aracroft eccolo sta arrivando no no ti prego vecchio chiudi le tende almeno vedi l'altra morte più di attento chiudi le tende no brodero mi sta bussando che cosa vuole lui io sono scappato ma gliela a chiedere dai vallero a chiedere ho dato un bel bacio non è questa poi cosa trovi una torcia ecco qua un'altra torcia mi serve ma io con chi sono non sei con me rage dimmi sei tu nella stanza con la televisione si oddio un incubo porta pensavo fossi nova scusa bene abbiamo già trovato la televisione noi allora dove dobbiamo portarla buona porto all'inizio ragazzi il mostro è da me è il televisore non puoi girarlo con il mouse lo so e devi girarlo con guasta lo sappiamo ne abbiamo già portato uno che sto portando la birra arriva posta noi sono dentro il bagno non vuole questo cosa non bevo questa merda e scuole 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 secondo me io posso salire ma infatti vedi no vedi non puoi salire se non ci sono tutti peccato vabbè fabio poggerlo un attimo qua prendiamo gli altri messo è stimato anche poi dopo dobbiamo andare dall'altro lato a leggere i numeri sicuro probabilmente si mazza che palla ma dobbiamo ah si è aperta la porta raga this way e io non penso che sia this way cioè io mi potrei anche fidare ma io mi sono buttato veramente è veramente this way ciao ciao ciao